Questa che si tiene da BC Art è la prima grande mostra in Occidente. S'è stata uno dei fondatori e uno degli esponenti continuativi del gruppo Guttai. I Guttai sono stati effettivamente i primi artisti che hanno tolto di mezzo l'idea di arte canonica secondo le forme classiche. Summier ha concepito una sorta di continuo corpo a corpo con le superfici del pittorico attuandole con qualsiasi strumento anticanonico che prolungasse il suo corpo degli ombrelli, dei suoi zoccoli, le mani stesse il fatto che questi artisti avessero grandi maestri come Giorgio Mathieu in Francia, Art in Germania Lucio Fontana in Italia, non poteva essere che l'Italia a dedicare la prima vera grande mostra dopo la sua morte agli suoi zoccoli Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.